Tribunale di Matera, procedura esecutiva numero 103 del 1994, lotto unico. Appartamento, primo piano di circa metri quadri 97, composto da ingresso, cucina, soggiorno, bagno e due camere da letto. Sito in piazza della Vittoria 1, San Giorgio Lucano. Prezzo base, 39.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita con incanto. 22 settembre 2015 alle ore 12.20. Luogo della vendita, dottor Brunella Carriero, notaio in Matera per informazioni, chiama il numero verde, infoaste, 800 630 663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Matera, procedura esecutiva numero 11 del 2008, lotto unico. Appartamento piano terra, di 5 vani e bagno. Sito in contrada Guirro, Matera. Prezzo base, 153.000 euro. Quota, piena proprietà, diritto proprietà pari a un terzo. Vendita senza incanto. 13 ottobre 2015 alle ore 17. Vendita con incanto. 27 ottobre 2015 alle ore 17. Luogo della vendita, presso studio in Matera, via Don Minzoni numero 38. Per informazioni, chiama il numero verde, infoaste, 800 630 663. Da lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Matera, procedura esecutiva numero 12 del 2006, lotto unico. Immobile primo piano, metri quadri 50 catastali, accatastato come deposito ma utilizzato come abitazione. Composto da due vani, bagno, ingresso. Sito in via Rutigliano, Matera. Prezzo base, 72.400 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 16 ottobre 2015 alle ore 20. Vendita con incanto. 18 novembre 2015 alle ore 20. Luogo della vendita, professionista delegato dottor Bruno Mario Guarnieri nel suo studio in Matera. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Dottor Bruno Mario Guarnieri, telefono 3, 4, 838 68 984. Tribunale di Matera, procedura esecutiva numero 132 del 1994, lotto unico. Locale adibito ad officina meccanica con accesso carrabile al piano terra. Sito in via Marche, Montalbano Ionico. Prezzo base, 25.600 euro. Quota, piena proprietà. Vendita con incanto. 22 settembre 2015 alle ore 11.40. Luogo della vendita, studio in Matera alla via. 4 novembre numero 22 C per informazioni, chiama il numero verde, infoaste, 800, 630, 663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Matera, procedura esecutiva numero 133 del 2006, lotto uno. Opificio industriale e commerciale. Sito in scansano Ionico, zona artigianale e commerciale. Prezzo base, 1.794.375 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 22 settembre 2015 alle ore 12. Vendita con incanto. 12 ottobre 2015 alle ore 12. Luogo della vendita, studio del notaio delegato in Matera. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Geometra. Giuseppe Filardi, telefono 08 35 87 73 20. Tribunale di Matera, procedura esecutiva numero 133 del 2006, lotto 4. Ha appartamento al piano secondo, composto da tre camere da letto, soggiorno, cucina, due bagni, disimpegni e ripostiglio. Sito in Policoro, via Brennero 44, Policoro. Prezzo base, 70.312 euro e 50 centesimi. Quota, quota un mezzo. Vendita senza incanto. 22 settembre 2015 alle ore 12. Vendita con incanto. 12 ottobre 2015 alle ore 12. Luogo della vendita, studio del notaio delegato in Matera. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Geometra. Giuseppe Filardi, telefono 08 35 87 73 20. Tribunale di Matera, procedura esecutiva numero 141 del 1994, lotto unico. Immobile presso il Borgo Turistico Balneare di Metaponto. Sito in Borgo Turistico Balneare di Metaponto Lido, Bernalda. Prezzo base, 23.976 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 20 ottobre 2015 alle ore 17. Vendita con incanto. 20 novembre 2015 alle ore 17. Luogo della vendita, studio in Matera via del corso 17 bis. Per informazioni, chiama il numero verde, infoaste, 800 630 663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Matera, procedura esecutiva numero 156 del 1996, lotto a. Appartamento primo piano, metri quadri 75 utili. Sito in via Duca degli Abruzzi 2, Colobraro. Prezzo base, 25.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 13 ottobre 2015 alle ore 10 e 30. Vendita con incanto. 28 ottobre 2015 alle ore 10 e 30. Luogo della vendita, avvocato. Vincenzo nota con studio in Matera via Roma, 71. Per informazioni, chiama il numero verde, infoaste, 800 630 663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Matera, procedura esecutiva numero 156 del 1996, lotto b. Terreno agricolo metri quadri 15.925. Sito in contrada Valle Rossella di Colobraro, Colobraro. Prezzo base, 8.280 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 13 ottobre 2015 alle ore 10 e 30. Vendita con incanto. 28 ottobre 2015 alle ore 10 e 30. Luogo della vendita, avvocato. Vincenzo nota con studio in Matera via Roma, 71. Per informazioni, chiama il numero verde, infoaste, 800 630 663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Matera, procedura esecutiva numero 156 del 1996, lotto c. Due locali piano terra di metri quadri 49 complessivi, adibiti ad ufficio. Sito in corso Umberto I 160, Colobraro. Prezzo base, 29.880 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 13 ottobre 2015 alle ore 10 e 30. Vendita con incanto. 28 ottobre 2015 alle ore 10 e 30. Luogo della vendita, avvocato. Vincenzo nota con studio in Matera via Roma, 71. Per informazioni, chiama il numero verde, infoaste, 800 630 663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Matera, procedura esecutiva numero 156 del 1996, lotto d. Deposito piano terra di metri quadri 43 complessivi. Sito in corso Umberto I 158, Colobraro. Prezzo base, 21.630 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 13 ottobre 2015 alle ore 10 e 30. Vendita con incanto. 28 ottobre 2015 alle ore 10 e 30. Luogo della vendita, avvocato. Vincenzo nota con studio in Matera via Roma, 71. Per informazioni, chiama il numero verde, infoaste, 800 630 663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Matera, procedura esecutiva numero 156 del 1996, lotto e. Appartamento primo piano di metri quadri 110 complessivi. Sito in corso Umberto I 156, Colobraro. Prezzo base, 78.900 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 13 ottobre 2015 alle ore 10 e 30. Vendita con incanto. 28 ottobre 2015 alle ore 10 e 30. Luogo della vendita, avvocato. Vincenzo nota con studio in Matera via Roma, 71. Per informazioni, chiama il numero verde, infoaste, 800 630 663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Matera, procedura esecutiva numero 156 del 1996, lotto F. Appartamento secondo piano di metri quadri 102 complessivi. Sito in corso Umberto I 156, Colobraro. Prezzo base, 73.140 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 13 ottobre 2015 alle ore 10 e 30. Vendita con incanto. 28 ottobre 2015 alle ore 10 e 30. Luogo della vendita, avvocato. Vincenzo nota con studio in Matera via Roma, 71. Per informazioni, chiama il numero verde, infoaste, 800 630 663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Matera, procedura esecutiva numero 179 del 1996, lotto unico. Appartamento sviluppantisi su due livelli, piano terra e primo piano, collegati da scala interna, composto, il piano terra da una ampia sala e due disimpegni, il primo piano da tre camere da letto e due bagni. Sito in località Lido 48, Contrada Scannaturco, Pisticci. Prezzo base, 58.875 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 22 settembre 2015 alle ore 12. Vendita con incanto. 12 ottobre 2015 alle ore 12 e 20. Luogo della vendita, studio del notaio delegato in Matera. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato. Ferdinando Forte, telefono e fax, 08 35 33 11 66. Tribunale di Matera, procedura esecutiva numero 2 del 2010, lotto unico. Unità immobiliare adibita a civile abitazione, piano 2, 3, di 4 vani. Sito in via Toti, Pisticci. Prezzo base, 51.885 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 13 ottobre 2015 alle ore 17. Vendita con incanto. 18 novembre 2015 alle ore 17. Luogo della vendita, studio in Matera alla via del corso 17 barra bis. Per informazioni, chiama il numero verde, infoaste, 800 630 663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Matera, procedura esecutiva numero 36 del 1993, lotto uno. Fondo rustico. Sito incontrada da piano delle ginestre, tricarico. Prezzo base, 12.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 14 ottobre 2015 alle ore 18. Vendita con incanto. 13 novembre 2015 alle ore 18. Luogo della vendita, presso studio legale via Luigi in Audi numero 25 Matera. Per informazioni, chiama il numero verde, infoaste, 800 630 663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Matera, procedura esecutiva numero 36 del 1993, lotto due. Fondo rustico. Sito incontrada da piano delle ginestre, tricarico. Prezzo base, 674 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 14 ottobre 2015 alle ore 18. Vendita con incanto. 13 novembre 2015 alle ore 18. Luogo della vendita, presso studio legale via Luigi in Audi numero 25 Matera. Per informazioni, chiama il numero verde, infoaste, 800 630 663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Matera, procedura esecutiva numero 36 del 1993, lotto tre. Fondo rustico. Sito incontrada da piano delle ginestre, tricarico. Prezzo base, 370 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 14 ottobre 2015 alle ore 18. Vendita con incanto. 13 novembre 2015 alle ore 18. Luogo della vendita, presso studio legale via Luigi in Audi numero 25 Matera. Per informazioni, chiama il numero verde, infoaste, 800 630 663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Matera, procedura esecutiva numero 36 del 1993, lotto 4. Fondo rustico. Sito incontrada da piano delle ginestre, tricarico. Prezzo base, 232 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 14 ottobre 2015 alle ore 18. Vendita con incanto. 13 novembre 2015 alle ore 18. luogo della vendita, presso studio legale via Luigi in Audi numero 25 Matera. Per informazioni, chiama il numero verde, infoaste, 800 630 663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Matera, procedura esecutiva numero 36 del 1993, lotto 5. Appartamento primo piano di metri quadri 74, vani 5,5 catastali. Sito in via Valle Oscura, tricarico. Prezzo base, 0 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 14 ottobre 2015 alle ore 18. Vendita con incanto. 13 novembre 2015 alle ore 18. Luogo della vendita, presso studio legale via Luigi in Audi numero 25 Matera. Per informazioni, chiama il numero verde, infoaste, 800 630 663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Matera, esecuzione fallimentare numero 42 del 1998, lotto unico. Laboratorio per restauro di materiale archeologico metri quadri 903. Sito in zona PIP, Bernalda. Prezzo base, 216 mila euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 8 ottobre 2015 alle ore 10. Vendita con incanto. 5 novembre 2015 alle ore 10. Luogo della vendita, Palazzo di Giustizia, via Aldomoro per informazioni, chiama il numero verde, infoaste, 800 630 663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Matera, procedura esecutiva numero 76 del 1989, lotto 1. Fondo rustico di natura Oliveto. Sito in contrada Pantana San Nicola, Pomarico. Prezzo base, 6 mila euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 7 ottobre 2015 alle ore 17.30. Vendita con incanto. 21 ottobre 2015 alle ore 17.30. Luogo della vendita, Avvocato. Gianluca Dinnella con studio in Ferrandulna. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato. Gianluca Dinnella, telefono e fax, 08 35 55 68 20. Tribunale di Matera, procedura esecutiva numero 76 del 1989, lotto 2. Fondo rustico di natura seminativo. Sito in località Serre Sabatane, San Biagio, Miglionico. Prezzo base, 12 mila 500 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 7 ottobre 2015 alle ore 17.30. Vendita con incanto. 21 ottobre 2015 alle ore 17.30. Luogo della vendita, Avvocato. Gianluca Dinnella con studio in Ferrandulna. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato. Gianluca Dinnella, telefono e fax, 08 35 55 68 20. Tribunale di Matera, procedura esecutiva numero 94 del 2009, lotto unico. Terreno agricolo. Sito in località Serritello, Matera. Prezzo base, 22 mila euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 20 ottobre 2015 alle ore 17. Vendita con incanto. 5 novembre 2015 alle ore 17. Luogo della vendita, presso lo studio del professionista delegato, Avvocato. Massimiliano Miglio, in Matera per informazioni, chiama il numero verde, Infoaste, 800 630 663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13.